bentornati in queste nuove serie di video tutorial dedicati a gkado e oggi in particolar modo ci soffermeremo su un comando molto utilizzato molto richiesto che quello della copia proprietà spesso può capitare che io vada a disegnare sul mio lavoro e quindi io voglio poi andare a prendere determinate proprietà di quell'elemento oggetto e riportarlo direttamente su quello che è il mio elemento card di disegno che voglio appunto riprodurre quindi in questo caso c'è il comando dal menu home trovo corrispondenza con proprietà corrispondenza con proprietà mi chiede cliccando qui in alto di selezionare entità di riferimento di cui copiare la mia proprietà quindi innanzitutto io ad esempio vado a copiarmi questa proprietà di questa linea poi devo andare a selezionare entità a consegnare la proprietà copiata quindi in questo caso ad esempio io vado a prendere nel riferimento queste entità ad esempio e tasto destro confermare automaticamente vedete mi ha applicato quella che è la corrispondenza delle proprietà quindi se io adesso vado a prendere l'informazione vedete mi ha ricopiato tutto quello che sono l'entità serramenti colore della penna e caratteristica anche tipologia della linea difatti qui se vado a selezionare questo si trovava quest'altro tipologia di elemento si trovava su layer muratura e qui adesso invece per quanto riguarda si trova su layer serramenti e mi ha copiato quelle che sono tutte le caratteristiche questa è una funzione molto utile quando devo andare a ricopiare delle proprietà direttamente da degli ene un elemento d'origine e riprodurlo poi su altri e l'entità cad